Cinque classi per un totale di un centinaio di studenti. Sono i numeri del corso B del liceo classico Parenti Uccelli di Sarzana di indirizzo teatrale, quest'anno per la prima volta strutturato dalla prima classe alla quinta. Cento studenti che hanno scelto di arricchire il cammino della loro istruzione con un orientamento ritenuto all'avanguardia e importante per la formazione di futuri cittadini e professionisti. Il liceo classico Parenti Uccelli si è distinto in questi ultimi anni per una scelta fatta ben cinque anni fa. Cioè la scelta di creare una curvatura artistico, teatrale, musicale. Che cosa ha comportato questo? Questo ha comportato di inserire all'interno dello radiocurricolare una materia come teatro, come storia del teatro. Perché noi sappiamo che il teatro greco è stata la base di tutto il teatro ed è attraverso il teatro che i nostri ragazzi hanno avuto e hanno la possibilità di conoscersi meglio, di approfondire determinate materie, di lavorare per se stessi e di dimostrare quanto valgono all'interno di alcune rappresentazioni che sono state fatte. Il teatro al Parenti Uccelli, oltre a una proposta curricolare dedicata al classico, è un laboratorio pomeridiano rivolto ai ragazzi degli altri indirizzi dell'Istituto Superiore Sarzanese. Al classico teatrale, nella curvatura, lavoriamo sulla parte emozionale del teatro, sulla parte viva, quella che il corpo dice che ha da dire. Lavoriamo sui ragazzi, su loro stessi. Ogni ragazzo lavora su di sé e lavorando su di sé poi arriva a lavorare sul gruppo. La performance, lo spettacolo finale è sempre un pretesto per dire quello che abbiamo fatto, per raccontare, non è mai solo un atto artistico, ma è solo, è solo esserci lì. Per cui i ragazzi imparano a stare in un posto, imparano a viverlo, imparano a sognare, imparano a volersi bene, imparano realmente a rispettare il proprio attorno e se stessi. Se tu sapessi.